Dopo la cucina e la moda, la Puglia si distingue anche per il design del mobile. La testimonianza è nel successo che il Made in Puglia del settore arredo legno ha ottenuto nell'ultimo salone del mobile di Milano. Il design pugliese è stato ben rappresentato nella mostra Puglia l'eccellenza italiana abita il futuro. La mostra immagine è dedicata ai mobili e agli arredi promossa da Regione Puglia e distretto produttivo del settore. Un'occasione per esportare al di fuori dei confini regionali la creatività, la capacità di innovare delle piccole e medie imprese pugliesi. Una capacità di cambiamento che non dimentica però la tradizione e la conoscenza delle tecniche di lavorazione dei materiali, il legno in testa. Con questa sintesi di vecchio e nuovo, il design industriale è in grado di proporre soluzioni, anche personalizzate, per arredare le case del presente e del futuro. Lo sa anche Loredana Capone, assessora allo sviluppo economico, quando dice che la Puglia, nel salone del mobile di Milano, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di prestigio che gioca a vantaggio delle sue imprese. La mostra è stata l'occasione anche per visite d'affari. Numerosi contatti stretti con delegazioni di paesi emergenti, quali Arabia Saudita, India, Sudafrica e Turchia. Con la mostra ha preso il via l'ambizioso progetto firmato Politecnico di Milano, di Bari e Regione Puglia, che ha l'obiettivo di garantire, già dal prossimo anno, l'inserimento professionale di giovani designer pugliesi.